ci troviamo nella sartoria di mario de martino al termine della presentazione del libro la sartoria storia ad un'arte san giovannese maestro in poche parole l'abbiamo già ascoltata durante la presentazione perché di questo libro perché tante persone ancora non non sanno come come vestire ti faccio l'esempio che uno per esempio con una giacca tre bottone lì a bottone tutte e tre e quando basterebbe quello centrale quindi nel libro sono presenti diversi suggerimenti consigli aneddoti e anche una raccolta di tutti quelli che sono stati i sarti e le sarte di san giovanni appiro diciamo patria dell'artigianato se san giovanni appiro è stato il paese dei sarti ormai è da tanti anni che la sartoria san giovannese va avanti credo che fino a che si può non deve mai finita questa è un'arte bellissima straordinaria basta metterci tanta passione e ti dà tante soddisfazioni il laboratorio sartoriale ha visto la partecipazione di tante persone tante ragazze signore che si sono impegnate lei durante il corso della serata ha riproposto il laboratorio anche per per il prossimo ottobre fino al giugno 2018 un'esperienza quindi che l'ha gratificata e non poco sì gli do la possibilità di un secondo anno così possono approfondire quelli che già hanno partecipato il primo anno approfondire meglio la situazione si possono inserire pure altri per me è continuare questa passione queste ragazze mi danno tanta soddisfazione si sono applicate nelle nell'imparare anche se per il tempo è stato quel quel poco che gli ho potuto dare però hanno appreso parecchio e quindi io continuerò per il secondo anno con grande piacere questo laboratorio sartoriale sua donna con grande piacere questo laboratorio su Dos Oophack corollido un'ottima sei tool